Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, video sul Bari. Come sapete oggi, Bari-Komo e Bari ha pareggiato 2-2 in casa contro il Como. Io nel complesso della partita che andremo ad analizzare, ho visto veramente un grandissimo Bari. Un grandissimo Bari, avrei fatto l'elogio di Mignani, lo dico col cuore sinceramente, anche se avessimo perso. E ciò è stato anche confermato dalle dichiarazioni di Longo, allenatore del Como, a fine gara, quando ha detto che il Bari nel secondo tempo sembrava come se non fosse successo niente. Eravamo sotto i due gol all'inizio del secondo tempo e loro sono entrati in campo, loro riferendosi al Bari, come se non fosse successo niente. E infatti poi il mister ha fatto un grandissimo cambio, come spesso accade, ha messo Moracchioli che ha messo un grande assist per competenza di Chedira, che finalmente torna il gol dopo un mese e mezzo, credo. E poi abbiamo fatto nel secondo tempo, dico, una partita importante sotto ogni aspetto, un grandissimo Bari nel secondo tempo. E' proprio una reazione ad un passivo di due reti in casa nel primo tempo, una reazione del genere, fa capire quanto sia valido il lavoro di Mignani, quanto sia valido il lavoro del Bari, quanto sia valido il lavoro di tutti i giocatori che giocano per il Bari, quanto sia quei sul gruppo. Andando sulla gara, il Como ha preparato bene la partita, ma anche il Bari ha preparato bene. Devo dire che nel primo tempo loro sono stati sicuramente più bravi, quindi va fatto un applauso, anche se con un po' di furbizia, magari con l'arbitro, il Bari poteva un po' ridurre i danni nel primo tempo, cioè, dico, sugli attaccati ci andavano molto duro, era un pressing a tutto campo a uomo, e spesso gli interventi erano al limite del fallo, invece i giocatori del Bari non protestavano mai, su che dire ho visto qualche intervento un po' al limite, bastava fermarsi, protestare con l'arbitro, e magari prendere anche qualche fallo anche sull'altre quarti. Devo dire, quindi il primo tempo niente, è andato molto bene al Como, però alla fine, Longo a fine gara ha detto che noi abbiamo segnato su un episodio il secondo gol, ma io vorrei ricordare a Longo che il primo gol del Como è un gol, con una palla sporca in aria, e il Bari nei pochi gol che ha preso la casistica della palla sporca in aria ricorre spesso, e il secondo gol è un errore nostro, quindi dei due gol del Como, una palla sporca in aria nel secondo è un errore nostro, il Como ha pressato però, invece il Bari ha fatto due bei gol, e secondo me ci poteva scappare anche il terzo, per un pelo ci siamo divorati il terzo, perché il Como era K.O. nel secondo tempo, dopo un secondo era già K.O. con la testa, e faccio i miei complimenti a Mignani e al Bari di averli fatti ugualmente, ugualmente se avessimo perso, perché il secondo tempo è una grande squadra, il secondo tempo è una grande squadra, e niente, dopo un primo tempo così, un secondo tempo del genere fa riemergere tutto, poi devo dire che niente, che veramente è una squadra da sogno, io ho già parlato di sogno, se andate a vedere sul mio canale c'è un video in cui ho titolato Un sogno che si chiama Bari, io mi sono commosso oggi, al 2 a 2 sinceramente mi sono commosso, non faccio ancora live reaction, ma se vi facessi vedere le mie live reaction ragazzi, sarebbe da morire, cioè l'ongo sembra un, ora un po' lo sfottò, sembra un po' un, un, che si fa un sacco di lampade, sta sempre a muoversi, a parlare col suo secondo per ogni cosa, dai, è lungo, dai, però da parte dei giocatori del Como, abbastanza fair play, anche Cutrone, abbastanza fair play, a parte Edenthal, indietro, che c'ha un po' una faccia da babbalocco, però, in realtà, l'ongo ha sconfessato i giornali che danno il Como, come, come, ambizione, un'ambizione del Como per, per i playoff, dico, ed ha detto che sono soltanto stupidaggini, e che loro tendono a uscire dalla zona play out, addirittura, e, niente ragazzi, secondo il 2-2 mi sono commosso, perché è stato veramente, un grandissimo Bari, poiché vengo a segnare di Cesare, che è un monumento ormai per il Bari, che non solo è fortissimo dietro, ma questo viene pure a fare gol, e stava per segnare il 3-2 di Cesare, su quella pallavolo di sinistro, andiamo sui singoli, nel secondo tempo è entrato molto bene Botta, molto bene in giocate, sembra, in alcune giocate sembra un po' col giocatore della Roma famosissimo, non mi viene, comunque qualcuno mi aiuti, col giocatore, uno dei più grandi giocatori della Roma, campione dell'82, sembra un po' lui in alcune movenze, Botta, quando fa quelle movenze col sinistro, non mi viene il nome, e, bene Botta, benissimo Moracchioli, bene Ceter, Ceter non sarebbe più utilizzato, se stesse bene, devo dire che a me non è piaciuto Mazzotta, e sono un po' di gare che non cammina proprio sulla fascia, proprio, molto male Mazzotta, un po' meglio nella seconda parte del secondo tempo, Ricci è entrato bene, e, niente, Foloruscio mi sa che ha fatto l'errore sul secondo gol, Maita un po' in affanno, si è sentita la mancanza di Maelon nel primo tempo, Vicari pure un po' in affanno, Puccino un po' scarico, però poi nel secondo tempo sono usciti tutti molto bene, soprattutto che dirà Foloruscio nel lavoro sporco, Moracchioli nell'appoggio, nel frasseggio, anche nel dribbling, nel cross, insomma, un giocatore che può diventare molto importante. Chiudo per i tifosi del Genoa, anche Alessandro che mi segue sempre, e che ringrazio, e che mi commenta sempre, niente Alessandro, l'ultimo video forse un po' esagerato, però come tu ci stiamo un po' lo sfottò, e devo dire che, vale un po' quello che ha detto il nostro capitano di Cesare, che ormai è su tutti i giornali, di Cesare ha commentato un po' le parole di Gilardino, Gilardino ha detto che è un sogno che si sta avverando, di Cesare ha detto ma con 33 milioni di ingaggio, 33 milioni di monte ingaggio c'è il Genoa ragazzi, sapete cosa significa? Significa che i giocatori del Genoa, mesi in sé, fatturano 33 milioni di euro all'anno, dice con un ingaggio del genere dovevate stravincere il campionato, stravincere, non stare lì, perché se non ci fosse il Bari per il Genoa, e loro sarebbero già tranquilli, però siccome c'è il Bari a 6 punti, non possono sbagliare niente, perché se sbagliano una partita, il Bari fa 3 punti, e poi c'è lo sconto diretto, capito? Quindi stanno un po' così, perché dice annaggia sto Bari, perché se stava come a suo tiro, erano già in Serie A, potevano già festeggiare, è un, dice Cesare ha detto che noi non giochiamo sul Genoa, noi giochiamo per noi stessi, ecco una bellissima risposta questa, non l'ho detto io, non ve la prendete con me, l'ha detto di Cesare, capitano del Bari, che oggi ha fatto un partitone, vera anima del Bari, ha segnato il 2 a 2, un grandissimo gol fra l'altro, tecnicamente, come movimento, come intelligenza tattica, stoppa la palla di petto, la mette dentro di sinistra e la scotterra, sembrava un gol, un gol a lamba a pena, altro po'. e niente, devo dire che nel primo tempo, come sempre, sono visti un po' i fantasmi del San Nicola, e tocca ogni volta dirlo, non so cosa sia, il Bari è un po' più rapace e fuori aria, ma ci va bene, a San Nicola siamo un po' timidini, poi il secondo tempo è stato, ragazzi, il secondo tempo è la grande squadra, è la grande mentalità, è la grande personalità, perché chi va a pareggiare 2 a 2, una partita in serie B, con qualunque squadra, chi è che riesce a recuperare due gol, è difficile, l'ha fatto il Como, la volta scorsa col Genoa, la scorsa giornata, non è facile, non è facile, perché è un controcorpo psicologico forte, però Mignani ha detto, questi ci fanno pressing a tutto campo, come tutte le squadre che vengono a giocare con noi a San Nicola, mettiamo un po' di tecnica dentro, mettiamo un po' di tecnica, poi Mazzotta ha beccato il giallo, l'ha tolto, ha messo Ricci, ma Mazzotta l'ho visto male oggi, sulle fasce non siamo molto fluidi come altri tempi, però niente, un pareggio meraviglioso, un punto molto importante fra l'altro, perché poi ho visto anche le altre squadre hanno faticato, a parte il Genoa, e le altre hanno faticato, perché il sottilo l'ha pareggiato, quindi lasciamo invariata la distanza dal sottilo, il terzo posto comunque è importante, il terzo posto comunque è molto importante, e niente, quindi ragazzi, io vorrei iniziare quando avrò più tempo a fare anche la reaction, farvi vedere come vivo la partita, fantastico, fantastico direi, e niente, perché Regina ha pareggiato, Genoa ha vinto, però le altre, Palermo ha perso, Cagliari ha pareggiato col Frosinone, insomma, questo punto è veramente duro, a parte che dà continuità, come dice Migliani ai risultati, ragazzi, io potrei parlare per ora, e poi faremo un'analisi più a caldo, più a freddo, scusatemi, sulla partita di oggi, devo dire, è un grandissimo bar, e anche se avessimo perso, avrei fatto lo stesso video, lo stavo per fare, anche se avessimo perso 2-1, abbiamo fatto veramente, un secondo tempo pauroso, cioè da chapeau, secondo tempo tipo, da grande squadra, intelligenza, capacità di reagire al nervosismo psicologico, all'attenzione, di gestirla, insomma, e poi tecnicamente con botta, come ho detto con botta, con Morachioli, anche con Maitan, di Cesare, con Kidira, e anche Esposito, ha fatto vedere qualcosina buona, ha giocato pochi minuti ragazzo, ma qualcosina l'ha fatta vedere, speriamo di scommettere, nel futuro su Esposito ragazzi, un pollice se vi è piaciuto il video, fatemi sapere cosa ne pensate, e iscrivetevi al canale, iscrivete al canale di Bellavì, sono uno dei pochi su YouTube, che parla di Serie B, uno dei pochissimi che parla di Bari, alla prossima Bellavichers.